Terra Mara, anticipazioni di venerdì 4 luglio dove vedremo un Ilmas ormai al limite, prendere Adnan e portarlo via con sé. La nuova puntata si apre con un car che scrive una lettera a Demir nella quale gli dice che ora lui la conosce meglio di prima e sa cosa lei ha sacrificato per lui. Non ha mai pensato a se stessa ma ha dedicato tutta la sua vita alla sua felicità. Pensava che le madri potessero realizzare la felicità dei propri figli ma si sbagliava, ha ferito molte persone e tornando indietro si sacrificherebbe mille volte per lui ma non ferirebbe mai Zuleia. Ne ha sofferto infatti anche lui di questo. Gli chiede di considerare quella lettera come le sue ultime volontà e gli chiede di non fare più del male a Zuleia e di non agire più con ostinazione e rancore e non lo farà neanche lei. Ora lei ha bisogno solo d'amore, misericordia e pace e come lei rispetta che lui esegua i desideri del padre gli chiede di capire anche lei che vuole passare gli ultimi anni della sua vita con Ali Ramet Fekeli ed essere felice per la prima volta in tutta la sua vita. A questo punto la scena torna sulla dichiarazione di Demir che dopo aver dato Adnan a Gulten per portarlo a casa afferma che vuole che tutti sappiano che credeva che Zuleia fosse la sorella di Ilmas, che lui l'ha amata tanto e l'ha presa in moglie anche se sapeva che era incinta. È vero che Ilmas e Zuleia erano fidanzati ma lui non lo sapeva e quando Ilmas è andato in prigione l'ha sposata non per compassione ma per amore. Ha accettato il bambino e lo ha amato come se fosse suo, gli ha dato il nome di suo padre che era la persona che più amava nella sua vita e lo ha amato come un figlio dal primo momento che lo ha preso in braccio e da quel momento è la cosa più preziosa per lui. Pensava che questa verità non sarebbe stata rivelata anche perché non si conosceva la sorte di Ilmas che era in prigione e difficilmente sarebbe tornato. Poi Ilmas è stato scarcerato, ha sposato la dottoressa Mushgan e danno un figlio. Ora Ilmas ha saputo che Adnan è suo figlio ma nonostante ciò Adnan rimane sempre suo figlio. Poi si alza e si avvicina ad Ilmas e dice ad alta voce che anche se lui è il padre biologico lui è il vero padre. Ilmas inizia a contestare ma Demir gli dice che sta cercando di spiegare il perché della loro faida dicendo la verità e che Adnan rimarrà suo figlio per tutta la vita. Ilmas gli risponde che quando è andato a trovarli in prigione gli aveva detto che Zuley era sua moglie davanti ad Allah ma lui l'ha sposato ugualmente. Demir gli risponde che l'amava e se apesse saputo dall'inizio che non era sua sorella non l'avrebbe mai guardata e non sarebbe mai successo niente di tutto ciò. Non possono cambiare le cose per cui gli offre la pace davanti a tutta Cucurova e gli tende la mano. Ilmas però la rifiuta dicendo che si riprenderà Adnan al più presto. Poi Ilmas finge di andare via ma si introduce nella villa e va nella camera di Adnan lo prende in braccio e lo porta via. Lo vede Sanie che però non interviene. Quando Fekeli torna in ditta racconta a Cetin dell'agguato. Cetin a sua volta gli dice che Ilmas è andato da Adnan. Fekeli dopo aver detto a Cetin di avvisare i gendarmi che Fekeli sta inseguendo gli attentatori va via. Intanto mentre in villa Zuley chiede a Demir perché non ha raccontato che è stata costretta a sposarlo lui le risponde che l'unica verità è che Adnan è suo figlio ma vengono interrotti da Gulten che avvisa che Adnan è sparito. Tutti si mettono a cercarlo e Demir accusa Gulten di averlo dato ad Ilmas e che pagherà per questo ma lei giura di non averlo fatto. Arriva Fekeli e Demir gli ripete che Gulten ha dato Adnan ad Ilmas e di dire a suo figlio che pagherà per questo. Fekeli gli dice che Ilmas non lo avrebbe mai fatto e porta via Gulten con sé. Demir accusa anche Zuley, poi raduna tutti i lavoratori e ordina che si armino e lo seguano. Nel frattempo Sanye è a casa angosciata per quello che ha fatto e quando la raggiunge Gaffur che ripete le accuse contro Gulten e dice che Demir è impazzito, lei gli confessa che Gulten è innocente perché Ilmas ha preso da solo il bambino. Gaffur le chiede perché non lo abbia fermato, lei gli risponde che deve andare a dire tutto ciò a Demir. Gaffur la ferma dicendole che la ucciderà e che ora Gulten è al sicuro. Così terminano le anticipazioni di venerdì 4 agosto. La puntata è iniziata in modo molto strano perché prima di collegarsi con il giorno precedente si è vista questa scena di Unkar che scrive sostanzialmente un testamento come lettera a suo figlio Demir. Questo ci porterà nelle prossime puntate, tra molto poco, a uno dei momenti più drammatici di tutta la serie Terra Mara. Non vi anticipo nulla ma il testamento di Unkar farà seguito a un evento molto drammatico. Io sono Stefania, come sempre vi aspetto nei commenti e vi invito ad iscrivervi ai miei due canali, Chi è Cosa TV e Stefania Serie TV. Un abbraccio e ci sentiamo nei commenti.